L'artista esistenziale, buongiorno a tutti, giornata mondiale della pizza, la migliore pizza è quella di Tramonti e di Napoli quindi c'è un posto binomio che è particolare, perché? Perché la prima pizza, la pizza Margherita, nel 1897 appunto Regina Margherita nasce la pizza Margherita e il fiore di latte viene preso dai monti lattari quindi dalle zone nostre, quindi parte la pizza a Tramonti sui 350 gradi, quindi una pizza croccante tendenzialmente mentre a Napoli parte una pizza molto più soffice, molto più alta, quindi con un cornicione abbastanza, già ripeto, molto molto più alto e più spesso sui 450-500 gradi, quindi c'è un po' questo binomio anche tutt'oggi fra quella che è la pizza di Tramonti e quella partenopea signori, io ho studiato tanti anni a Napoli e ne ho mangiate di pizza a Napoli e vi dico che Napoli è un qualcosa di impressionante dal punto di vista della pizza e non c'è nulla da dire, l'artista distanzialista buongiorno a tutti